Tuttu tutu Va bene il frigo è vuoto fantastico dovrò andare a farla spe... cos'è sto rumore? aiuto aiuto ma chi è che sta urlando ah mamma mia c'è un... laalespa in casa cosa? Stavo guardando il mio frigo che era vuoto E guardo il piano di sopra Guardale sono alla finestra Ci sono le vespe in casa Non le vedo ma come puoi vederle Avevo visto una Ti giuro mi appunto Posso entrare? Mi appunto sono al piano di sopra Ho il piano piano Oddio No non ci vedo Come hanno fatto a entrare in casa mia Ma hai lasciato una finestra aperta o qualcosa del genere Non lo so Avrò fatto un nido Vlad No Oh mio dio ma sono gigantesca Sono enormi Ti giuro mi ho preso un infarto Oh mio dio Aspetta vorrei tipo salire Come faccio? Che queste si moltiplicheranno Mi invaderanno tutta casa Non lo so Devi fare una disinfestazione Eh mi sa di sì Però come? Non ho nulla Aspetta Oh mio dio C'ho una paura matta No Lari io vado a casa tua Cosa? No aspetta Cosa possiamo fare? Caspita Non so neanche come disinfestare Non c'è nessuno Non lo so Di domenica oggi Appunto io non ho nulla in casa Per liberare Oh mio dio che sfortuna Vieni vieni a casa mia che ci ragioniamo sopra Esatto Ok sicuramente non potrai dormire da te oggi Eh beh direi di no Anche perché poi mi prendo le punture sul sedere Vieni che non voglio che arrivino anche da me Esatto esatto Allora si editi pure Ok che magari preparo qualcosa da mangiare Sì grazie anche perché mi hanno punto e quindi ho fame Vedo cosa ho in frigo per farti mangiare Allora ho il merluzzo cotto Pollo Biscotti ma credo per i dolci E carne Ma io direi che un po' di Ovina Vabbè carne ovina può andare Sì grazie Ok tieni qua il piatto Grazie Buon appetito Grazie Allora dimmi ma secondo te Da quando sono entrati? Ma non lo so ti giuro ero sotto a guardare che il frigo era vuoto e dicevo Ah tra l'altro si sta facendo buio Sì e mi sa che dovrei dormire da me Vlad Eh mi sa di sì perché io ero lì al pomeriggio la mattina non c'era nessuno ti giuro Poi sono andato sotto a farmi i cavoli miei Avrei lasciato una finestra aperta Mannaggia Allora senti Io ho delle armature che possono combattere questi insetti ok? Ne ho due Ne ho una bianca e una verde Qui nei due comodini qua Però direi che la scelta migliore è andare domani mattina così c'è luce e possiamo affrontarli con calma Sì 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 Sperando di riuscire ad ucciderli perché io non so se ce la facciamo ok? Comunque io direi che possiamo andare a dormire Dici? Sì Va bene va bene Almeno ci prepariamo veramente per domani No no ah ok dobbiamo dormire nello stesso letto Sì perché non è un altro Va bene va bene allora andiamo a dormire Ok E spegni le luci però magari no? Cioè voglio dire Se ti lamenti e sei a casa mia ecco Va bene però sposta il sedere un po' più in là che non c'è spazio Ma no ma cosa vuoi? Non ci sto qua dentro Ok allora colazione? Sì carinovina grazie No biscottini li ho fatti io Allora io ti porto già le armature ok? Sì Allora se vieni sopra Allora scegli vuoi quella verde o quella bianca? Prenderò quella bianca penso Sì va bene allora io prenderò quella verde Che armature strana Sì tra l'altro stai molto attento Perché come puoi vedere ok? Hai la spada per combattere Ma te sei stra... Lari come fai a vedere scusami? Io vedo però tra i capelli Cioè? Lo so però Vuoi fare cambio? No povera dei insetti Quindi non voglio che mi tocchino neanche un figlio di capello Ok? Ah ok va bene Allora E io invece ho come un naso di un elefante qui Sì Va bene Mi protegge dal naso Mi protegge va bene Allora preparati Ma cosa si muove in giardino da... Oh un coniglio Mamma mia mi spaventa No avevo pensato che si sono già moltiplicati Oh no 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 Uno scheletro Vieni qua Vieni qua Non ci arrivo Eh vabbè ti non occupo di te Ciao Ci sono ancora? Le vedi per caso? Io no Aspetta stai lì stai lì stai lì Sì ci sono Ci sono Ci sono Ok Aspetta stai lì Allora Pronto Come facciamo? Al mio via Vabbè Uno Due Via Oh mio Dio Mi stanno facendo sedere Sì anche me Sono fortissime Oh mio Dio No 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 Non voglio andare all'ospedale Oh mio Dio Ce l'ho fatta Flary No Vlad No Vlad Sì Vlad ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bene Bene io sono pieno di punture Quindi cosa ti posso dire Si vede che serviva la mia armatura Sì ma la tua armatura non è che mi abbia protetto chissà cosa Scusa però Vabbè Mi è stata utile Comunque Comunque se vieni con me ti faccio vedere che è tutto libero Sì? Sì Ma hai trovato per caso anche un nido o qualcosa in cui sono uscito Wow Che bello Ho trovato questo Ah ok ho trovato sì delle Sono tipo dei reperti Sì sono i sederi delle vespe Sì Ah adesso vi faccio io il sedere Comunque direi che per questa giornata è apposta Vi ho risolto la situazione Per oggi sì speriamo che non ne trovo altre di infestazioni No tranquillo è impossibile Dai ciao Buona giornata Finalmente ho fatto un po' di spesa Sono così felice Posso mangiare anche io un po' di pollo Poi magari la servo anche un po' a Lari Visto che me l'ha fatto anche lei La carina ovina Oh no No è Non di nuovo Oh no 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 Oh mio Dio Lari Lari Con il Ok Lari Lari Ehi ciao Lari 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 E' successo di nuovo Ancora le vespe No Gli scarafaggi Ma cos'è quella casa Ma non lo so ti giuro Se le dessi fuoco Sono giganteschi La rifanno così schifo Ma io non vedo nulla Fanno così schifo Oh mio Dio Sono così gustosi Che schifo Che schifo Che schifo Ma la butti la spazzatura Sì ti giuro Che schifo Come possiamo No io darei fuoco alla casa direttamente Ma no No me ne vado Io mi trasferisco Erano giganteschi Lo so Ma perché Ma forse perché viviamo vicino alla ferrovia C'è cosa Ma perché allora Io non ho questi problemi Non lo so Mio Dio Che schifo Solo a te Vedi anch'io c'ho il cestino in casa Ma non succedono queste cose Anch'io c'ho il cestino in casa Però la porto la spazzatura Mica faccio Oh Vabbè dai Siediti Siediti Senti Visto che tanto ci siamo Ho portato io del pollo cotto Sì Ah ce l'avevo anch'io A posto Facciamo scambio Allora Questa volta Credo che la situazione sia molto più difficile Perché prima avevamo le vespe Ma erano piccole Qui si tratta di scarafaggi enormi Ma da dove sono entrati Ti ho visto che sono giganteschi Io ho visto Non ha senso Infatti ho pure paura Caspita Anche oggi ti toccherà dormire da me Vlad Uffa Ho dormito malissimo con te Ti giuro Ah ti lamenti pure? Un pochino sì Perché Allora io comunque ho delle nuove armature Ok Non so se Siano adatte a questo tipo di scontro Però spero che possiamo riuscire a risolvere Per l'ultima volta questa situazione Lo spero Perché ti giuro È assurdo No sai cosa Dopo che li uccidiamo Faccio tutto il possibile Metto delle disinfettanti ovunque E infatti bravo Ma ovunque Bravo Devi fare questo Siterina Vlad mi sa che è notte Abbastanza tardi Possiamo andare a dormire Va bene Sì andiamo a dormire Ok Prepariamoci Domani alla prima ora Sì Andiamo anche noi A fare Sì che schifo Ok buonanotte Buonanotte Fai un po' più di spazio Grazie Bene Allora ci prepariamo subito Non mangiamo neanche Perché dobbiamo ad affrontare No no perché si saranno moltiplicati A questo punto Allora io mi prendo sempre la mia solita armatura Allora io mi prendo sempre la mia solita armatura Allora io cos'è sta roba Ma l'Ari che armatura è questa È spy Oh l'Ari È un costume di Halloween È anti scarafaggio se vedi Ma questo è un ragno sul petto Eh vabbè È un costume di Halloween Di Spiderman Che è lo spazio per armatura Ma vabbè Vabbè Però non ho una spada Te la do subito Allora questa volta però ti devo dare l'ascia Va bene Sì Vieni Capitano funghetto Dov'è L'hai presa Ah sì L'ascia da vichingo Allora Mamma mia sembro il protagonista di un film horror Eh ma tanto sei brutto come sempre Sì ma così sono ancora più brutto Magari si spaventano il cast Esatto Ottima idea Ding dong Arriviamo Ding dong Buongiorno Allora vado sempre io Sì 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 ma sei sicura di vederli con quelle lumi in te Oh mio dio che schifo Che brutti Che brutti Che brutti Sì ce la facciamo Ce la facciamo Ok Ma cos'è questo? Lari Sto tremando dallo schifo Sono tipo la Corazzo Il guscio Che schifo Lari sto morendo di schifo Non piace Buttiamo direttamente Allora io dico che abbiamo disinfestato tutto Sì 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 però ti giuro Non riesco più a dormire qui dallo schifo Cioè mi sa io che cambierò casa Dici? No ma mi fa troppo schifo Chi lo dice che domani ci saranno di nuovo altri? Ci sono state le api Non ci dovrebbe essere più nessuno Uffa Come se io fossi disordinato o altro Beh secondo me sì se ti entro Tieni la tua armatura Che questa volta mi è stata utile Ti ringrazio anche per l'aiuto Ti preparerò una torta No non mi fido A forma di scarafaggio No 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 grazie mille Ciao 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 Ciao